Ciao, sono Erz. Mi sono sempre chiesto, una bottiglia di acqua può costare 8 euro? Cioè, quale mente malata la potrebbe mai comprare una bottiglia di acqua naturale 8 euro? La settimana scorsa stavo girovagando nei social e trovo un post che attira la mia attenzione. E scoppia il panico nei social. E come sempre noi italiani siamo pronti a ironizzare, a odiare e soprattutto a polemizzare. Ma per quale motivo? Viene pubblicata questa foto e scoppia il panico. Esce la limited edition dell'acqua Evian targata Chiara Ferragni al costo di 8 euro a bottiglia. 8 euro una bottiglia d'acqua. Per il costo, pretendo che quest'acqua abbia degli effetti miracolosi curando persino l'ebola. O che almeno mi dia un potere stile supereroe. E ti voglio pensare un poco. Sono giorni che non mi sento bene di stomaco. Doveresti provare Evian. L'acqua Evian nasce nelle sorgenti più pure. Povera di minerali, dalle proprietà sconosciute, una volta ingerita una sola goccia, acquisirai delle doti nuove sconosciute agli esseri umani. Ma ricorda, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Cazzo, 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 cazzo. Ryūga, waga teki wo kura! Ma tutti forse non sanno che l'acqua Evian, se la pronuncia è sempre giusta, non so di sì, è un'acqua ovviamente di lusso. È un'acqua pura, consigliata ovviamente ai neonati e alle future mamme. E ha fatto anche diverse versioni, limited edition. E come potete vedere, qui ci sono le limited edition dell'acqua Evian. Dove i testimonial sono stati, oltre Chiara Ferragni, personaggi del calibro come Jean-Paul Gaultier, perdonate il francese, Elie Sab, Paolo Smith, Kenzo e Alexander Wong. Tutti al costo ovviamente di 8 euro. Ma noi italiani, come sempre, siamo pronti a odiare, olevizzare e anche ironizzare. Perché i furbetti prima si scagliono contro e poi guardate cosa fanno. Comprono l'acqua a 8 euro e poi la rivendono come una limited edition, come un videogioco a 45, a 35 euro, a 25 euro, a 40, completamente sigillate. E bravi i nostri furbetti! La puntata di oggi finisce qui ragazzi. E fammi sapere se hai bevuto anche tu l'acqua Ferragni e se ti ha dato qualche superpotere. Scrivimelo qui sotto nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale cliccando Location Games in fondo al video. E lasciami un like effervescente e naturale se il video ti è piaciuto. Detto ciò, noi ci vediamo settimana prossima sempre qui sul canale Location Games in compagnia della piccola Nike. Ciao! Ciao!